Due aggressioni a distanza di poche ore. La polizia sta indagando su due casi distinti che si sono verificati in città. Il primo è avvenuto nella zona nord, in via Petrarca. Una professoressa di 64 anni e la sua amica stavano facendo una passeggiata dopo cena vicino a casa, quando sono state avvicinate da un uomo di circa 30 anni, con un cappellino in testa e una folta barba finta, secondo il racconto delle due donne. L'uomo, probabilmente italiano, ha improvvisamente estratto dalla tasca una pistola, minacciando di consegnargli il denaro. L'insegnante gli ha dato una banconota da 10 euro e il bancomat, mentre l'amica non aveva soldi con sé. Il rapinatore si è poi allontanato velocemente a piedi. La scena è stata notata da un residente in un condominio nella zona, che era alla finestra e ha avvertito il 113. È intervenuta una volante della polizia. Ora però sarà difficile riuscire ad identificare l'autore della rapina. Il secondo inquietante episodio ai danni di un'altra donna si è consumato invece alla stazione. In piazza Marconi, un'infermiera astigiana di origine albanese è stata aggredita da un giovane mentre stava andando a prendere il treno per Alessandria, dove lavora. La vittima è stata picchiata al volto da un bandito che ha tentato di strapparle la borsetta. La donna ha reagito, assestando due calci al rapinatore, che si è così allontanato a mani vuote. L'infermiera, anche se ferita, è poi andata a prendere il treno. Giunta ad Alessandria ha contattato telefonicamente la polizia astigiana, riferendo dell'aggressione. L'autore, stando alla testimonianza della donna, sarebbe un uomo di colore e di statura elevata. Sono state subito avviate le indagini con l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza comunali. La donna ha riportato lesioni giudicate guaribile dai medici in 15 giorni.